Così mi vedete con la testa mozzata però, però mi vedete tutta, passo e chiudo, 1, 2, 3, si scaldiamo, 4, 5, 6, 7, 8, passo puntato, 4, 3, 2 e 1, basso, basso, alto, alto, basso, basso, alto, alto, 2 e 3, su, su, 4, piccoli movimenti, 5, su, su, 6, su, su, 7, su, su, 8, ancora, 8, 8, e 7, su, su, 6, su, su, 5, su, su, 4, su, su, 3, su, su, 2, su, su, 1, 1, su, su, continuo, passo, passo, 4, 3, 2, 1, porto il ginocchio al petto e su e giù, alzate laterali le braccia, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, stop, mi fermo qui le braccia e crunch da in piedi, on, porto anche le spalle al ginocchio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, cambio, 1, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, stop, ora prendiamo il pesetto pesante, cosa facciamo? Un stacco a gambe tese, salgo, spesso, car bicipiti, goblet squat, stendo, ok? E giù, on, qui, cai, scendo, su, due, e qui, goblet, 3 ho sbagliato 3 stacco 4 goblets su scendo e su carri goblets 5 stacco salgo qui goblets 6 scendo stacco carri goblets 6 qui scendo su e goblets su 7 8 su ne facciamo ancora 8 qui scendo su 7 anzi questa è l'ottavo mi sa 8 su qui questo è il settimo 7 qui 6 scendo 5 goblet 4 scendo 3 2 2 e 1 su so bene appoggiamo il peso questa volta lavoriamo senza pesetti come qui un sumo squat portiamo i gomiti al busto 1 su incrocio apro 1 qui incrocio 2 incrocio 3 incrocio 4 incrocio 5 incrocio 6 incrocio 7 incrocio 8 incrocio 9 incrocio 10 incrocio ancora 10 incrocio 9 incrocio 8 incrocio 7 incrocio 6 incrocio 5 incrocio 4 incrocio 3 incrocio 2 incrocio 1 ne facciamo ancora 5 così arriviamo a 50 con il sumo 1 2 3 4 5 stop come va? tutto bene? si ora prendiamo il pesetto il pesetto non il pesetto il tappetino cosa dico mai? tappetino allora vedete voi se il peso pesante lo volete tenere appoggiato il bacino oppure tra le gambe in questo modo quindi si fa tricipiti su e scendo su ponte e qui 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ancora 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 e 1 stop ok appoggiamo il pesetto ora facciamo un mountain climber ma in plank position quindi ci mettiamo in plank 4 4 1 1 2 3 4 5 6 7 5 6 6 5 4 3 6 6 7 6 5 6 7 8 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 14 13 15 15 15 15 16 16 17 17 Il ponte questa volta lo faremo da qui, quindi sarà così, ponte, giù, crunch, qui, on, su, 2, su, 3, su, 4, su, 5, su, 6, 7, 8, 9, 10, ne facciamo ancora 10, salgo, crunch, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e uno stop, rilasso, dondolo sulla schiena, mi siedo, via il tappetino, e andiamo con gli ultimi 15 minuti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, prendiamo il peso pesante, lo portiamo al petto, da qui semplicemente degli affondi indietro, 1, qui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10 e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio damba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 9, 8, 8, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, ok, subito, subito, andiamo a terra mantenendo il nostro peso pesante però eh, dalla quadrupedia, facciamo, ro, ro, mantengo, mantengo, qui, on, on, mantengo, 2, 2, mantengo, 2, mantengo, 3, 3, mantengo, 4, 4, 4, mantengo, 5, 5, mantengo, 5, mantengo, 6, 6, 6, mantengo, 7, 7, mantengo, 7, mantengo, 8, 8, mantengo, 9, 9, mantengo, 9, mantengo, 9, mantengo, l'ultimo, 10, 10, 10, mantengo, stop, ci mettiamo su un fianco, in questo modo, gamba che sta in alto dietro, gamba invece di terra avanti, cosa facciamo? da qui, ci alziamo, girandoci però verso l'alto, scendo, appoggio la mano, mi sollevo, appoggio la gamba, e giù, d'accordo? uno aperto e uno chiuso, proviamo, vado, on, qui, salgo e appoggio, on, qui, lavora tutto, sentita tutto il fianco, dorsale e addominale, ce la facciamo? sì che ce la facciamo, dai, va, on, mi apro, scendo, salgo, appoggio, qui, è da crampo eh, 2, qui, mi alzo, lì, e 3, qui, 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 4, questo il 4, 4, salgo, qui, che dolore, 5, noi facciamo 8, ormai ho detto 8 e stanno 8, tanto l'altra parte è più facile spero, 6, 7, l'ultimo, dolore ovunque, 8, la spalla, i dorsali, gli obliqui, ovunque fa male, fa niente, tanto è già finito, questo andrà meglio, trema tutto, dai, da qui, on, qui, appoggio, e on, due, su, 3, qui, quattro, 5, 5, 6, dolore anche di qui eh, 7, però è finita, l'ultimo, 8, stop, che male, dolore, dolorissimo, ce la facciamo girarci, sì, tutto qui, va bene, va bene, va benissimo, va benissimo, allora, prendiamo i nostri pesetti, anche uno, anche l'uno pesante, va bene, anche l'uno pesante, dunque, alzata completa, addominali, ma con le gambe piegate, quindi scendo lì, e salgo, mi sposto un po' in avanti, tanto ho le gambe piegate, scendo piano piano, lì, e allungo, torno, qui, due, tre, quattro, due, cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, stop, appoggiamo i pesetti, gambe in alto, e, apro e chiudo, mi giro di qui, se no non ci sto, apro e chiudo, se volete, tenete sulle spalle, due, due, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora, oh, appoggiate le spalle però, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, oh, oh, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, sforbiciate, potete tenere anche le mani sotto i glutei eh, tanto è proprio destaticamento adesso, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, stop, ginocchio al pezzo, appoggio i piedi a terra, porto, un tallone sul ginocchio, stacco il piede, prendo le mani, e tiro la gamba verso il petto, stretcio il gluteo, sentite tirare, tre, appoggio, incrocio, e scendo, dalla parte della gamba incrociata, testa dalla parte opposta, centro, centro, scavallo, porto, il tallone al ginocchio, sollevo la gamba, prendo, e tiro, e scendo, e testa dalla parte opposta, centro, scrocio, ginocchio al petto, dondolo sulla schiena, e mi siedo, bene, metto il petto, srotolo pian pianino la colonna, giro le spalle, e un respirone, qui, ancora uno, su, e fuori tutto giù, bravissime!